Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Luca e come avete letto dal tisolo, nel video di oggi vi parlo di un libro molto molto importante per me. Un libro che in assoluto, lo dico proprio senza nessun dubbio, mi ha assolutamente cambiato la vita. Io di libri ne ho letti un sacco, soprattutto nell'ambito crescita personale, business, eccetera, eccetera. Però questo in assoluto è quello che ha avuto un impatto più grande sulla mia vita. Perché contiene un sacco di lezioni pratiche e teoriche che veramente sono riuscito a rendere mie. Ed è un libro che assolutamente consiglio veramente a tutti, soprattutto ovviamente alle persone, a imprenditori oppure liberi professionisti. Sto parlando di Mastery, di Robert Greene. Un libro uscito quando io avevo 12 anni, quindi nel 2012. Fa parte della collezione di libri di Robert Greene, come le 48 leggi del potere. Un libro che ho letto ma che ho trovato un po' ripetitivo, non mi ha fatto impazzire, però comunque ve lo consiglio. Stessa collezione delle 33 leggi, 33 strategie di guerra, anche quello l'ho letto molto bello. C'è anche l'arte della seduzione e la cinquantesima legge, con 50 cent. Le ho letti entrambi, molto fighi. Però questo in assoluto è il migliore, secondo me. Quello che mi ha aiutato di più. Robert Greene è un autore che a me veramente piace un sacco. È uno dei miei preferiti. E allora in questo video non parlerò nello specifico di cosa tratta esattamente questo libro. Perché se vi interessa ve lo andate a leggere. Voglio dare un po' la mia esperienza personale dopo aver letto questo libro più volte. E come vedete ci ho lavorato parecchio in questo libro. Tra l'altro me lo stavo rileggendo l'altro giorno. Insomma sono pieno di sottolineature, note, cose del genere. E voglio portare un po' la mia esperienza. E come effettivamente questo libro ha impattato sulla mia vita. Allora innanzitutto di cosa parla questo libro? Si chiama Mastery, che in italiano significa maestria. E con questo si intende la sensazione di controllo completo. Quindi quando sei, hai livellato al massimo, sei al livello 100 su 100 del tuo mestiere, del tuo lavoro. Oppure insomma di qualcosa nello specifico che tu fai e sei un maestro. Quindi diventi un maestro. E Robert Greene nel libro tira fuori moltissimi esempi, moltissimi aneddoti ed esperienze di persone reali, esistite, ancora oggi vive. che hanno raggiunto questo livello di maestria nella propria arte, chiamiamola così. E fa moltissimi esempi, tra cui Freddie Roach, Albert Einstein, Darwin, un sacco di personaggi storici, insomma che appartengono a un sacco di campi diversi. Quindi parla di sportivi, parla di businessman, parla di scienziati, parla di artisti e porta insomma queste esperienze per riuscire a descrivere i vari passaggi per raggiungere la maestria nella propria arte. E come sono riuscito io a applicarlo alla mia realtà non ho fatto altro semplicemente che seguire insomma quello che lui descrive come il percorso per la maestria, quindi Path to Mastery, che è composto in varie fasi. E la prima fase è quello di scoprire, lui lo chiama Life Scrolling, che sarebbe in italiano la propria vocazione. E nel libro porta moltissimi modi, quindi si adattano alle varie personalità diverse, per appunto scoprire la propria vocazione. Ed è un qualcosa di veramente, un concetto veramente incredibile, perché non l'ho trovato veramente da nessuna parte. Nessuno mi ha mai detto come trovare la mia vocazione, come trovare la cosa che amo fare. E questo libro me l'ha insegnato. Le altre fasi che appartengono alla strada per la maestria sono l'apprendistato, quindi in questa fase ha varie sottocategorie, chiamiamole così, in cui ti spiega come diventare un apprendista ideale, perché ovviamente non basta avere il giusto mentore, ma bisogna essere anche nella situazione giusta e avere l'impostazione mentale corretta per riuscire a imparare. Poi come trovare e imparare in modo ottimale dal proprio mentore, e come riuscire a raggiungere un certo livello di intelligenza sociale, chiamola così, empatia, per riuscire a concludere questa fase di apprendistato. E questa fase qui per me è stata estremamente importante, in quanto io questo libro l'ho letto all'inizio del mio percorso online come imprenditore. E infatti grazie a questo libro sono riuscito a individuare con molta più facilità le persone a cui rivolgermi per imparare determinate skill, per riuscire a, che ne so, imparare a gestire un'azienda, imparare a controllare le mie emozioni, imparare a gestire magari delle trattative e via dicendo. Le altre tappe del percorso per aggiungere la maestria sono la mente, lui la chiama multidimensionale, se non sbaglio, si risveglia la mente multidimensionale. Lui fa un esempio molto interessante sui bambini che hanno un'esperienza del mondo, diciamo senza nessun costretto sociale, senza regole, almeno fino a una certa età, e fanno esperienza con tutti i sensi e non hanno limiti alla loro immaginazione, non si pongono limiti. E lui parla del fatto di riuscire a raggiungere questo stato di consapevolezza, quindi tornare diciamo bambini e applicarla alla propria arte, chiamiamola così, per riuscire a individuare quelli che possono essere chiamati, citando un altro libro, oceani blu, quindi mercati inesplorati, oppure riuscire a migliorare, che ne so, la propria offerta, riuscire a trovare un product market fit migliore, insomma riuscire ad aggiungere al proprio business, alla propria arte, chiamiamola così, delle componenti che solamente noi con la nostra immaginazione riusciamo a creare e che non troviamo, insomma, da nessun'altra parte. Per quanto riguarda questa parte qui, diciamo ovviamente è la parte più difficile e io non penso di essere ancora riuscito a sfruttare queste lezioni neanche al 10%, però ovviamente quando si parla di maestria, e viene detto anche nel libro, si parla di decine di anni di esperienza in uno specifico settore per raggiungere la maestria. Tra l'altro, non mi ricordo adesso se è all'inizio o alla fine del libro, fa un esempio che c'entra con Einstein, adesso non mi ricordo esattamente, scusate la poca professionalità, ma in cui dice che per riuscire a raggiungere, cioè riuscire a cambiare il modo in cui il nostro cervello ragiona e funziona per una determinata cosa che stiamo facendo, sono necessarie 10.000 ore di lavoro concentrato, quindi 10.000 ore di esperienza in quella determinata cosa per riuscire a raggiungere, insomma, questa fase creativa attiva. L'ultimo punto che viene trattato nel libro è quello che riguarda il combinare l'intuizione con la razionalità ed è ovviamente un qualcosa che solamente un maestro della propria arte riesce a fare, però è un qualcosa cui onestamente io prima di leggere questo libro non avevo mai pensato ed è giusto porselo come un obiettivo, riuscire a combinare l'intuizione e quindi i virtuosismi con farli sposare con delle regole e con la parte razionale della propria arte, del proprio lavoro, del proprio business. Quindi per concludere volevo dirvi che ho creato questo video per condividere con voi questo libro, che per me è stato super importante e tuttora lo è, essendo che a volte torno a spulciarlo, anzi è abbastanza spesso, vi consiglio assolutamente di comprarlo e di leggerlo. Non so se c'è la versione in italiano, probabilmente sì, io l'ho letto in inglese però, e vi consiglio di comprarvi proprio la copia fisica perché come vedete è veramente figo proprio da avere. Io sono sempre stato abituato a leggere su iPad, però questo qui l'ho voluto avere fisico perché veramente spacca. Tutto qui ragazzi, mi raccomando, per tutte le persone che sono interessate ad avviare un'agency online specializzata in client acquisition, quindi in acquisizione clienti, oppure vogliono diventare dei freelancer specializzati in acquisizione clienti, io vi consiglio di seguirmi su Instagram e di entrare nel canale Telegram gratuito, trovate il link nella bio. Nulla, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!